E buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti sempre accolti dal miglior sound nel mondo cripto musicale, dei pezzi che vabbè, ciao proprio. E chi ci sta guardando su YouTube non li vede, non li sente, perché per godersi queste perle pazzesche deve passare a Twitch, deve seguirmi su Twitch, quindi trovate il link in descrizione. Bene, detto questo noi partiamo subito in quarta con il nostro ultimo appuntamento live della settimana che ci vede alle prese con un bitcoin che sembra voler fare un rimbalzino che però per ora non è niente di particolarmente vigoroso, suonato anche il claxon, non so se avete sentito, e di fatto il canale nel quale si sta muovendo rimane esattamente quello ribassista che state vedendo qua evidenziato in giallo. Quindi io sto cercando di incrementare la mia copertura short, come vi condivido sempre su Telegram, mi raccomando siateci perché tutte le info dirette al minuto T0 proprio ve le butto fuori lì. E per l'appunto il trend attuale sul breve è ribassista, non c'è ancora un barlume di domanda sufficiente a dire ma quasi forse abbiamo trovato il bottom locale. No, ci sono un paio di livelli che sono fondamentali da tenere sotto controllo perché sono le ultime occasioni che bitcoin ha perché noi ridiamo e scherziamo ma qua la situazione potrebbe volgere al peggio. Non facciamo i tragici che poi mi dite che esagerano e avete ragione, al peggio no, però se il trend inizia a propagarsi ancora un po' e a rompere appunto un paio di livelli che sono le ultime occasioni che bitcoin ha per fare un higher low, ecco insomma diciamo che la situazione non è proprio bellissima, ma di questo ne parliamo come di consueto nella seconda parte della live dove analizziamo i grafici. C'è una notizia positiva però, ovvero che le altcoin, ho fatto un casino col bracciolo, le altcoin stanno veramente spingendo. Oggi hanno fatto, molte altcoin stanno creando dei bei pattern tra cui Cardano, vabbè ormai ve lo analizzo tutte le volte perché di fatto eravamo rimasti a un'analisi che diceva se si verificano certe cose potrebbe impostarsi bene e apparentemente sta accadendo, quindi seguiremo anche quella ma non è l'unica. Ci sono vari altcoin che mi sono segnato qua sul mio taccuino e che poi andiamo a vedere oltre al solito bitcoin perché ne potrebbe valere la pena. Però per iniziare io ho un paio di notizie, chiamiamoli in questo modo, non è che ci siano grosse notizie ultimamente, ma qualche piccola perla dal mondo cripto, qualche pillola ecco di cripto, la prima delle quali è il lancio di crypto.com slash NFT che l'avrete visto presumo perché ormai vi ho fatto una testa così, ieri ho fatto il video su crypto.org, sono arrivato secondo, non primo, però fa lo stesso, ci tenevo a farlo e no, la cosa che vi volevo dire oggi in aggiunta a quanto già detto ieri per non essere ripetitivo è che ci sarà un NFT regalato dopo il 31 marzo, quindi penso poi lo faranno scaglioni il layer drop nelle giornate successive per chi si iscrive a crypto.com slash NFT entro appunto il 31 marzo. Considerate che basta una mail e una password, non c'è KYC, non ci son menate, non c'è niente, non c'è neanche un referral, se no ve l'avrei già scillato ancora prima di iniziare il video, no, sto scherzando ovviamente, però per dire che c'è questa possibilità. Al momento il drop di oggi io non ho visto nemmeno come è andato, secondo me è ancora in corso addirittura, però mi aspettavo, vi dico la verità, una maggior domanda, è perché questo addirittura non è nemmeno ancora sold out, c'erano 200 di questi, 200 di questi e 200 life goes on che non è ancora sold out, ce ne sono ancora 25, a 2000 dollari l'uno. Io ho visto, ho dato un'occhiata prima per pura curiosità al marketplace e vedo che stanno provando a rivenderli al doppio, ma secondo me stanno abbassando il tiro perché prima c'erano dei prezzi decisamente più alti. Non lo so, sono curioso di vedere come finirà questa storia e di vedere quanto verranno prezzati di fatto questi NFT su Crypto.com. Vediamo, però c'è questo in regalo e a cavaldonato, come si suol dire, non si guarda in bocca. Poi, se vi chiedete che cos'è, questo è l'hash del primo blocco della blockchain crypto.org e questa è una frase, un quote di Hal Finney, che è un criptoeroe. Allora, poi Cardano, parliamo un po' di Cardano perché ieri ha rivelato una parte della timeline, una parte successiva della timeline, in particolare inerente ai prossimi aggiornamenti che porteranno il lancio della possibilità di creare smart contract e in sostanza di creare quelle d'app simili a quelle del mondo Ethereum, eccetera, e simili, quindi Binance Smart Chain, Solana, tutte quelle altre blockchain che ormai stanno facendo enormi passi avanti e ci sono delle tempistiche stimate. La testnet dovrebbe, si chiama Alonzo, bel nome, la testnet dovrebbe essere live più o meno tra un mese, si dice, poi ci saranno, ovviamente ci sarà la fase di test, a giugno si farà la prova per decidere di andare a lanciare su Mainnet con l'Hard Fork Combinator e la stima di questo upgrade è intorno ad agosto. Nel frattempo gli sviluppatori, utilizzando il linguaggio Plutus, che è quello di Cardano, ho studiato un po', stanno già costruendo delle sorte di alternative a Uniswap e a Idex, proprio per essere pronti nel momento in cui usciranno gli upgrade con queste applicazioni. Si sa mai che mi facciano cambiare idea, o io giuro non sto aspettando altro che vedere, toccare con mano, sarò il primo, giuro io sarò il primo utilizzatore della DeFi su Cardano, proprio perché voglio dire l'ho fatto, l'ho usato e così potrò cambiare idea. Detto questo, ritorniamo da voi perché non ho altro da aggiungere in verità, queste erano le uniche pillole, notizie, cose che vi volevo condividere prima di iniziare a leggere le vostre domande. Allora, ciao Luca, secondo te potrei fare un pack su Binance? Non so perché non mi hanno accettato su The Rock Trading. Che strano, mi dispiace. Dunque, un pack su Binance, purtroppo, 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 nativamente no, c'è da usare delle applicazioni di terze parti, come si chiama Delta Badger, eccolo qua. Delta Badger, che in sostanza è un bot, insomma un'applicazione appunto che si integra con l'API di Binance, non so quanto costa, se costa non credo a dire la verità, e il Basic Plan perlomeno non costa, e ti permette appunto di fare DCA su Binance pure e su vari exchange. Si integra con, non mi ricordo, però vari exchange, mi ricordo, l'avevo visto da qualche parte, e vabbè. Dunque, quando, appunto ripeto, non so il prezzo, non so come funziona, considera che andare ad agganciare uno strumento terzo al tuo exchange è sempre un ulteriore punto di possibile rischio. Considerate anche questo, mi raccomando, non pensate che questi strumenti terzi siano privi di rischio, perché se qualcuno li hackera, può andarvi a piazzare degli ordini in giro, a fare del casino, e lui si mette come controparte, quindi ci guadagna, e di fatto ha spese vostre. Fate molta attenzione, anche se non mettete il permesso di withdraw, vi possono comunque andare a fare dei danni, e sappiatelo. E quindi questo è un po' il rischio. Altrimenti ci sono altre piattaforme, come Crypto.com, che fa fare il DCA, poi cosa c'è? BlockFi, che fa fare il DCA, però è un po' più, cioè c'è da avere le stablecoin, poi di altri, forse Kraken, però non l'ho mai provato, non lo so, Bitpanda, altrimenti ti permette di farlo. Ce ne sono, dai, di exchange alternativi. Vedi un po' tu. Vai di short su Bitcoin, sta solo ritestando la base del triangolo, e poi si va giù, ha uno short da paura. Io non lo dico, perché di solito, quando dico ho aperto lo short, lui pompa, sicuro, cioè succede sempre, è fisso, fisso, e quindi, no, vabbè, scherzi a parte, ve l'ho già condiviso, dove sto puntando, per andare a fare compounding sul mio short, tra poco ve lo mostro bene nel dettaglio, con tanto di perché, per come, ma è abbastanza facile da capire, anche già guardando il grafico. Ciao Luca, sempre mitico, conosci Student Coin? Cosa ne pensi? E oggi mi è saltato all'occhio Juleswap su Binance Smart Chain, lo conosci? Allora, Juleswap, lo conosco, perché l'ho sentito nominare, però mi pare che sia una di quelle molto rischiose, se non erro. Fammi un po' vedere, fammi un po' vedere dove si posiziona, non c'è neanche qua, oddio, ah no, eccola qua, Juleswap, 74 milioni di liquidità, attenzione, perché è abbastanza rischi, non è esattamente il massimo, ecco, dunque, volevo vedere come erano, è quello di Just Liquidity, no? Mi sembra, l'interfaccia l'ho già vista, però io di solito, quello che faccio è che, quando vedo una liquidità relativamente bassa, di solito il miliardo, è quella che uso come stima per definire un progetto avviato di DeFi, io tendo a essere un po' diffidente, perché di solito sono quelli un po' più speculativi. A proposito di miliardo, volevo farvi notare come PancakeSwap, 4.46 miliardi di liquidità, si è mangiato, zitto zitto, cioè se l'è proprio mangiato, sia Uniswap, che Sushiswap, guardateli, loro stanno a 3.90, 3.95, 3.91, e lui 4.5, quindi bella per PancakeSwap, che se li ha veramente mangiati per adesso, allucinante, la velocità alla quale è cresciuto. Io ripeto, per voi utilizzatori della DeFi, magari, sì, ok, gli APY alti attirano, fanno gola, ma mi raccomando, fate molta attenzione, perché c'è pieno di scam nel mondo DeFi, quindi io personalmente quello che faccio è usare solo ed esclusivamente i progetti che sono avviati, sicuri, con tanta liquidità, tanti audit, insomma, con dietro una community, con dietro il supporto dell'exchange, dove possibile, e quindi di non farmi tentare poi dagli alti rendimenti. Poi, ah, Student Coin, mi avevi chiesto, non so di che cosa si parli, giuro, Student Coin, la cerco insieme a te, ma ti dico la verità, mi sa di ICO del 2017, una roba del genere, build and manage your own token, a cosa serve? Cioè, tu ti crei il token tu? Dove siamo andati a finire? Non lo so, non lo so, guarda, ti dico, ti dico la verità, così, di primo acchito, non mi dice nulla, però, DeFi, NFT, un po' di paroloni che attirano tutti buttati in mezzo, join the ICO, non lo so, non lo so, Rick, non lo so, sinceramente, a me queste, appunto, le nuove token in fase di lancio, sapete come la penso, ci sto ben lontano, dai, Luca, buonasera, hai un nuovo abbonato, aspetto il merchandising con il logo e la scritta, I only buy the top, bellissimo, ma hai dato un'idea veramente pazzesca, ciao Luca, sei un grande, volevo chiederti se con Trust Wallet è possibile accedere a un bridge, per swappare USDT e RC20 su blockchain Tron o BSC, secondo me col Binance Bridge non dovresti aver nessun problema, e se non erro Trust Wallet ci si integra alla perfezione, mi sembra che Binance non abbia i pack, esatto, 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 cioè, la cosa strana è che Binance US, che è lo spin off americano, permette di fare i pack, ma Binance normale no, purtroppo, chissà che prima o poi, ciao Luca, grazie mille per tutti i contenuti preziosi che ci regali, è veramente un piacere, perché tra l'altro, tra poco, vi voglio fare, voglio condividere un altro video, un altro mini corso, che ho visto che vi piacciono, quindi io continuo a farne, finché non mi fermate io li faccio, e dove vi mostro un po' come difendersi nei periodi di bear market, delle strategie difensive, per proteggere magari i profitti o la propria posizione, in periodi di bear market, volevo chiederti se e dove ti sei formato per fare trading, se hai seguito qualche corso, guarda, ti darò una risposta molto deludente, perché so che sembrerei più figo a dirti, se ho letto mille libri in inglese, in australopitechiano, in germanico, ma in realtà, io non ho letto nulla, no, in realtà ho letto i manuali di base di analisi tecnica, cioè il classico Hooply e simili, dove ho imparato un po' gli indicatori, però di fatto anche gli indicatori non, cioè non è che poi ti diano il know-how che ti serve, non so come spiegarmi, cioè sì gli indicatori, l'analisi tecnica è utile, però il trading è diverso, cioè un conto è fare analisi, un conto è fare trading, cioè riuscire a fare trading è ben diverso che fare analisi, perché tu puoi essere il più bravo analista del mondo, ma non sapere fare trading, cioè il trading non lo impari sui corsi e sui libri, il trading lo impari facendolo, basta, veramente, finché non lo provi, finché non ti metti lì e non rischi, non hai la cosiddetta skin in the game, non ti metti a rischiare il tuo capitale, a sapere cosa vuol dire, nel frattempo ho fatto apparire la chat, perché ho visto che non c'era, ogni tanto mi si bug, allora ho disattivato e riattivato il plugin, in ogni caso vi stavo dicendo che il trading lo si fa, lo si impara soltanto facendolo, ok, quando capisci le motività, quando capisci come gestire il capitale, quanto capitale mettere a rischio in ogni posizione, e così via, tu puoi studiarti tutti i libri del mondo, fare mille corsi, ma poi arrivi, è il momento di metterti in gioco, aprire posizioni, e non ti ci trovi, fidati, fidati che è così, ovviamente uno non è che devi iniziare buttando via capitale a 90, bisogna iniziare con un capitale ridotto, ma non troppo, perché altrimenti, c'è il rischio di non subire quell'effetto, come si può definire, effetto emotivo, effetto comunque di coinvolgimento, come dire, io faccio trading col conto demo, scordatelo di imparare trading, facendolo col conto demo, perché ti togli tutta la parte emotiva, che è il tuo nemico giurato principale, te ne accorgi solo quando lo fai, vedrai, poi, procediamo, procediamo, ciao Luke, sempre gasati ai massimi, bravo, una curiosità, da cosa dipende il prezzo di una coin token, al momento del primo listing su un exchange, bella domanda, in verità dipende dalla domanda e dall'offerta, banalmente, e molto dal market making interno dell'exchange, sul quale viene listata, mi spiego meglio, tu, immaginati una coin che viene listata su Binance, dopo il launchpad, loro fanno il launchpad a un certo prezzo, e io presumo che i market maker interni di Binance, cercheranno al momento del listing, di, sull'order book, di spingere con la liquidità verso un certo prezzo, perché comunque, hanno interesse, no, che si dica che i loro launchpad fanno sempre per tot, e quindi di solito, c'è una spinta da parte loro, però poi, è libero mercato, nel senso è domanda e offerta, quindi, se arrivano e tutti vendono, tutti coloro che hanno partecipato al launchpad, vendono, babababam, si ribassa, se arrivano e tutti decidono di comprare, si rialzano, è un po' quello il discorso, è veramente volatile il prezzo di una coin, al momento del listing, motivo per cui, io tendenzialmente, ci sto bene alla larga, perché diventa davvero una scommessa, è una cosa un po' aleatoria, cioè tu non puoi, non hai dati, non hai livelli chiave, non hai nulla, e quindi, diventa davvero una grossa scommessa, inoltre dopo analizzeresti VET BTC, grazie mille, assolutamente, lo andiamo a vedere subito, VET, allora, tac, eccolo, eh, non male anche lui, allora, 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 dove eravamo rimasti tra l'altro, perché mi ricordo che l'avevamo analizzato da, cioè non molto tempo fa, siamo in uptrend, molto pulito, come potete vedere, non mi ricordo se avevamo guardato, eh sì, avevamo tracciato i livelli chiave sul settimanale, se ci fate caso, ok, che li potete vedere già da qua, abbiamo 98 SAT qua giù, che è un po' questa neckline, poi abbiamo 128 SAT, che è un po' quest'area, poi abbiamo 150 SAT, questo top locale, e 158 contando anche la shadow, al momento ci troviamo alle prese con questa area, questo pool di domanda, che per ora sta sostenendo, se andiamo sul daily, tra l'altro vediamo un pattern che ha un aspetto abbastanza accumulativo, quindi non male, è possibile infatti cercare potenzialmente anche il long, in questa accumulazione, con ipotesi di continuazione rialzista, e stop loss in chiusura qua sotto, ok, primo take profit, volendo si può addirittura già trovarlo in zona 200 SAT, e basta, quindi questa è l'analisi, trend piacevole, perché comunque higher lows, higher highs, organico, e il bottom precedente era più basso, quindi abbiamo anche un higher low sul macro, non è male, non è male, devo ammetterlo, poi, dunque, ciao, buonasera a tutti, viva bitcoin, grande, questo è lo spirito giusto, dunque, in orario, più o meno, più o meno, ciao Luca, spero nel tuo gasamento di oggi, cosa ne pensi di coin list, hai provato anche tu a prendere casper, no, non ci ho provato in realtà, perché non mi ero registrato, e poi soprattutto, non, sai, non sono un tipo da vendite iniziali, io non lo so, so che, cioè, se conosco coin list, conoscendo il suo passato, soprattutto, perché ha sempre sfornato delle bombe, adesso ve lo faccio anche vedere, è un po', non dico una garanzia, però, di solito, le vendite iniziali su coin list, vanno abbastanza bene, e quindi, io mi aspetto che anche casper faccia qualche multiplo, perlomeno all'inizio, però, c'era anche un però, perché casper, nella sua prima vendita, che ha fatto, secondo me, i giorni scorsi, se non erro, c'è un lock per 12 mesi, quindi, non si può adampare per 12 mesi, ora, non mi fa nemmeno più entrare, quindi, tanti saluti, eh, coin list, è imbombato completamente, no, scherzi a parte, su coin list, ci hanno fatto la ICO di Solana, ci ha fatto la ICO Cielo, se non ricordo male, che altro, che altro, c'erano, ah, sì, Flow, Flow, quella di NBA Top Shots, vabbè, prendetemi in parola, immaginatevi come potrebbe essere coin list, e prendetemi in parola, e, va bene, niente, direi che possiamo proseguire, e salutare coin list, vediamo come va, i prossimi, le prossime tranche di vendita di casper, hanno un lock invece più basso, mi pare, 4 mesi, o 6 mesi, però un prezzo più alto, vabbè, e comunque le canzoni pre-live, sono il top del top, sì, ma, sappi questo, cioè, ogni mese cambiano, quindi in aprile, ci sono degli altri pezzacci, cioè, vi delizio io ormai, vi vizio, altro che, dove siamo finiti, eccoci qua, ciao Luca, quando apriresti un long su bitcoin, ne parliamo più tardi, ne parliamo più tardi, perché effettivamente, è una domanda totalmente pertinente, perché io ovviamente sto shortando, solo allo scopo di copertura della mia posizione, il macro è ancora bullish, non c'è motivo di essere esposti net short, a meno che uno non faccia trading in 3 day, è speculativo, ovviamente, e quindi, ha senso, farsi la domanda opposta, cioè, supponendo che io, magari, sono flat, sono in dollari, sono in fiat, e, caspita, sta ritracciando, e la prima domanda che mi faccio, vista l'impostazione complessiva, è proprio questa, quando entro, a dopo, a dopo, a dopo, allora, ciao Big Luke, domanda, ci potreste indicare, quali sono le fonti principali, da cui ti informi, siti, pagine instagram, giornali, twitter, da poter sviluppare, anche una nostra visione, lettura delle notizie, allora, guarda, fondamentalmente, da, le fonti che condivido su telegram, le vedete, io cito sempre la fonte, quando condivido la notizia, e, guarda, te lo dico, allora, in primis twitter, che vabbè, devi seguire le persone giuste, poi, io seguo abbastanza cripto panic, anche se poi, c'è pieno di, di cacca, nel senso, come guarda, come potete vedere, c'è pieno di, appena esce qualcosa su cardano, boom, la app votano tutti, e diventa veramente, una roba allucinante, c'è un po' di brigatismo, ecco, però ci sono anche delle notizie, importanti ogni tanto, e questo è un aggregatore, di tutte le principali testate giornalistiche, la mia preferita, in assoluto, si chiama, TheBlockCripto, questa qua, TheBlockCripto.com, io mi leggo sempre, i loro ultimi articoli, vabbè, hanno un po' di marchette, ma glielo concedo, perché è veramente, di alto livello, io questo, ve lo consiglio, davvero, come fonte di notizie, è molto, molto alto livello, e, bene, questo è un po' quanto, poi, ripeto, sì, Twitter, Reddit, però, anche lì, c'è pieno di cacca, nel senso, c'è pieno di scillatori, di, e quindi, è un po' così, vabbè, dunque, 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 ciao Luca, complimenti per il lavoro, che stai facendo, volevo chiederti, sai se esiste una carta, tipo, la Crypto.com italiana, per ora vorrei evitare, il quadro RV, grazie, allora, italiana, io ti direi di no, perché so che, TheRock Trading, era interessato a farla, però, mi ricordo, che han detto, che dovevano ottenere i permessi, che in Italia, purtroppo, è così, noi arriviamo sempre più tardi, perché la voglia di fare c'è, ma le regolamentazioni sono opprimenti, e ti tocca avere una licenza, una certificazione, anche per andare in bagno, praticamente. Luke, devi tokenizzare un NFT, con l'audio del tuo buonasera, amici cripto investitori, potrebbe essere una buona idea, è un po' di merchandising, lo faremo, dai, prima o poi. Ciao Luke, grazie mille per quello che fai per noi, domanda, esistono strumenti per analizzare, l'order book, di un exchange come Binance, la risposta è sì, allora, esiste, allora, ad esempio, Trading Lite, me lo ricordo, che era molto, molto, bello, però, è a pagamento, in sostanza, è appunto una, ti analizza l'order flow, ti va a vedere i volumi, la liquidità, gli ordini a mercato, tutte queste belle cose, anche su Binance, poi c'è, Tensor Charts, Tensor Charts, Tensor Charts.com, ecco, ce lo, che, 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 pure lui, anche su Binance, ripeto, va a vedere, l'order book, come puoi vedere, ti va a vedere, la liquidità, ti fa la bellissima, heat map, della liquidità, oppla, e, anche questo, a pagamento, è un freemium, chiamiamolo, perché è gratuito, ci sono alcune funzioni, di base, però, per andare ad avere, un po' tutte le funzioni, devi utilizzare, quello a pagamento, e poi c'è, book map, che mi piace molto, però, ti analizza, in tempo reale, cioè, ne avevamo parlato, un po' di tempo fa, per, riguardo allo scalping, sull'order flow, avevo fatto un video, dedicato proprio a questo, che è una pratica, veramente deleteria, ma, interessante, e, in ogni caso, anche lui, ti aiuta un po' a analizzare, gli order book, consigliabile anche quello, bene, ciao Luca, era meglio Remi, più avanti, più avanti, avrete altri pezzi, ve l'ho detto, dunque, 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 ciao Luca, cosa ne pensi di Hot, e di Eggled, puoi commentare i grafici, su quale delle due punteresti, se ne dovessi scegliere, solo una, allora, sai che Eggled, è sul mio tacquino, è sul mio tacquino, era una di quelle, che sono molto ben messe, allora, ve la mostro subito, guardate, visto che me l'avete chiesta, io non posso dirvi di no, allora, perché mi piace, perché di fatto, dal punto di vista macro, la struttura è positiva, uptrend, come potete vedere, tac, poi, vabbè, abbiamo la punta, però neanche troppo drammatica, ok, l'unica cosa, a cui bisogna fare attenzione, è questa eventualità, l'eventualità, che questo, diventi un triangolozzo ribassista, quindi, occhio, occhio a questa eventualità, però nessuno dice che deve accadere, e oggi, ho visto questa bella candela, che, insomma, dà una bella carica positiva, di domanda, e se ci dovesse essere follow up, fino ad arrivare, appunto, a invalidare lo scenario di triangolo, quindi, fondamentalmente, andare a fare una roba del genere, andare a fare degli higher highs, rispetto a questa zona, benissimo, bene benissimo, addirittura, cioè, c'è già la possibilità di fare dei trade anticipati, estremamente rischiosi, perché abbiamo rotto, questa piccola area di bottom, che contestualizzando tutto l'insieme, il macro bullish, la possibilità di fare questa struttura, potenzialmente rialzista, uno può dire, bene, dai, rischio rendimento, non è male, entro da queste parti, stop loss, qua sotto, in caso di chiusura, e vediamo un po' come va, ok, rischio contenuto, rendimento, comunque veramente asimmetrico, però, ripeto, c'è ancora, in agguato, la possibilità, di avere uno scenario, come quello che abbiamo detto prima, di triangolo ribassista, però, tutto sommato, è positiva, poi, hot, hot BTC, hollow chain, hot BNB, ah, perché non c'è, sì, perché vale talmente poco, in Bitcoin, che hanno sospeso la coppia, in Satoshi, e questo mi manda, completamente nel panico, perché sapete che io analizzo tutto, in Bitcoin, no, scherzi a parte, anche questo è molto, molto buono, qua, che, cioè, che pampa ha fatto, da qua a qua, 9 per, what? Per quale motivo? Beh, quasi quasi, tra le due, prenderei l'altra, 9 per, così, è un pelino estesa, così a naso, bene, bene, benissimo, allora, potresti spiegare in modo semplice, il motivo di queste fluttuazioni di Bitcoin, legate alle opzioni, è una costante che si ripeterà sempre, grazie mille, allora, tendenzialmente, quando ci sono delle scadenze, di prodotti derivati, soprattutto quando c'è, un open interest, molto alto, aperto, può succedere, che si cerca, cioè l'insieme di tutti i trader, che hanno aperto posizioni, su questi prodotti derivati, cercano di andare a portare il prezzo, in una situazione per cui, gli viene comodo, questa è una delle cose, la seconda cosa, è che ovviamente le opzioni a scadenza, i derivati a scadenza, vanno a fare delle operazioni, comunque anche sul mercato diretto, perché, per chi va ad esempio, a proseguire la posizione, andando a spostare la scadenza in avanti, si fa un tipo di operazione, per chi chiude, magari la copertura, per qualcuno l'opzione, il derivato era una copertura, va magari nel frattempo, a modificare anche la posizione spot, io ti dico la verità, non pensare, di poter prevedere, quello che accade, e soprattutto, diffida completamente, di chi ti dice, questo è successo, perché c'è la scadenza, delle opzioni di aprile, marzo, maggio, no, cagate, sono cagate, causano volatilità, quello sì, però, che ti dice, il dump è dovuto a questo, il pump è dovuto a quello, sono assolutamente, delle estensioni, della verità, la verità è causa volatilità, perché di fatto, si muovono volumi, in maniera imprevedibile, la, l'estensione è che tu puoi predire, il dump o il pump, quella è una cagata gigante, c'è addirittura la teoria, del max pain price, che è quel prezzo, per cui si causa appunto, il max pain, ovvero il massimo danno, tra i detentori di opzioni, e c'è una teoria, che dice che, di solito, il prezzo di scadenza reale, si avvicina al max pain price, perché il mercato, vuol fare il più male possibile, alla gente, non lo so, però, comunque ripeto, cioè si causa un po' di volatilità, nel breve, ma assolutamente imprevedibile, questo è il mio personalissimo parere, dato dall'esperienza, come vedi Dot Kusama, nei prossimi mesi, beh, Kusama sta volando, Kusama sta veramente impazzendo, e di fatto, noi, mi ricordo che ne abbiamo parlato, nell'ultimo live, abbiamo detto, c'è la possibilità, di fare il nostro solito, entry anticipatore, e altrimenti, qua veramente, cioè, non è in price discovery totale, quindi è difficilissimo, andare a trovare, dei livelli, sui quali, andare a, costruire una posizione, su ritracciamento, perché, come vedete, il primo livello, da ritracciamento, si parla di, 0.0057, e c'è il pool, fino a qua, e poi, a scendere, 0.005, dai, facciamo anche due lineette, di quelle fatte bene, una, perché è bianca, mamma mia, allora, una e una due, tac, queste sono le prime, e facciamo anche qua, dai, perché anche qua, effettivamente, c'è un livello chiave, poi, visto che siamo, dei professionisti, facciamo anche il pool, di domanda, qua sopra, che è, di fatto, il primo livello, un po' notevole, poi, andiamo sulle quattro ore, perché, sulle quattro ore, abbiamo uno spunto, anche qua, uno qua, e uno qua, allora, scriviamo, c'è lo che male non fa, facciamo così, qui, ci scriviamo, quattro ore, e qui, facciamo un bel copy and call, quattro ore, tac, così ce lo ricordiamo, allora, questo è un, questa è un'area, di domanda, con tanto di pool, volendo, dal quale abbiamo appena attinto, tra l'altro, nella quale, cioè, che può fare, ripeto, da supporto per il breve, stiamo parlando delle quattro ore, altrimenti, se lo perdiamo, l'atterraggio è in quest'area, che invece è presente anche sul daily, ultima alternativa, il dare questo per area di accumulazione, quindi, ingresso a priori, stop loss, magari, sotto il supporto precedente, o qua, o qua, e l'ipotesi è di prosecuzione rialzista, proprio a causa dell'accumulazione in corso, poi, DOT, invece, allora, Kusama adesso spinge di più, perché, sapete che, si stanno muovendo, le prime paracene, mentre DOT, allora, ah, guarda, appena pescato DOT, interessante, interessante, noi avevamo visto, avevamo individuato da un po', questo mega pool di liquidità, gigante, veramente, dal quale stiamo pescando, di fatto stiamo pescando in questa settimana, la struttura è assolutamente rialzista, siamo in price discovery, perché questa zona di bottom, ce la siamo lasciata per ora alle spalle, quindi, finché rimaniamo sopra alla vecchia zona, quindi quassù, siamo in price discovery, se ritorniamo da queste parti, invece perdiamo un po' quella condizione, quindi, finché rimaniamo qua, è una, ci sta andare a costruire, volendo una posizione, con invalidazione, proprio, qua sotto, delle chiusure, qua sotto, magari, tenendo un po' di margine, ad esempio, mettendo lo stop a chiusura, sotto gli 46.000, e, e basta, cioè l'idea comunque è questa, di seguire l'eventuale uptrend, perché poi, quando si sposterà un po' la FOMO da Kusama a Polkadot, mi aspetto anche un po' di reazione a catena, per la prima volta, finalmente riesco a seguirti anche su Twitter, mi stai anticipando, tu vedi il futuro, questo ragazzo vede il futuro, no, lo so cosa sta dicendo, lui voleva dire Twitch, però, sappiate che presto sbarcherò anche su Twitter, a gamba tesa, e, dunque, 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 I only buy the top, mitico Luke, quando ci fai un video, con una raccolta di tutti i trucchetti, riguardanti il trading di cripto, tipo scambiare Bitcoin, Ethereum, in Stellar, prima di inviarli in un altro wallet, piccoli bias dei grafici da sfruttare, mamma mia, cioè potrei parlare per 5 ore, praticamente, vi annoierai a morte, no, scherzi a parte, adesso sto lavorando, su alcune cose, al fine di farvi fruire, di più informazioni, in maniera più ordinata, perché effettivamente mi rendo conto che sul mio canale ci sono tanti video e è difficile trovarli a volte, quelli giusti, quindi sto ristrutturando banalmente il sito web, dove vi farò poi un bel elenco dei contenuti, strutturato come se fossero delle sorte di corsi, no, ovviamente con contenuti gratuiti, perché già sono online i contenuti, però organizzati bene, ecco, quella farà la differenza, e credo che, cioè, secondo me, sarà un bel passaggio, in avanti per voi, perché chi arriva magari adesso, apre il mio canale, vede 600 video, attacco una corda al soffitto, e ci si appende, perché dice, questo fai video da un'ora, ce n'è 600, preferisco fare quella fine lì, che guardarli tutti, invece così sarà più facile fruire, i, cioè, appunto, dei miei contenuti, senza impazzire, vedrete, 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 ciao Luca, come va, conosci il sito Madrex, per il trading automatico di cripto, lo conosco, ed è ottimo, ti dirò di più, volevo tra l'altro parlarne, ma, non ho trovato il tempo, però arriverà, arriverà, ciao Luke, potresti guardare Band, grazie, come no, come no, come no, allora, eccolo qui, settimanale, ah beh, a proposito, lo stavamo seguendo, già da un po', sul settimanale, visto che me lo chiedete, io porto avanti l'analisi, di fatto, vi ricordate, il fallimento, di rottura, di ricupero, di quest'area di liquidità, è avvenuto, e da lì in poi, c'è stato, c'è stata la chiara respinta, e di fatto, nulla di, nulla di fatto, per l'appunto, niente, non c'è spiraglio di posizione long, purtroppo, siamo ancora nella fase ribassista, Band, è il classico esempio, mi piace portarlo sempre alla luce, perché, non so quanti di voi, erano già nel mondo cripto, quest'estate, e si masticava, si pregustava, l'essere cripto millionaire, con Band, no? Io mi ricordo questa FOMO, e io che dicevo, attenzione, vi bruciate, e venivo ovviamente, sei hater, cosa dici, sei rimasto fuori, dici così, perché non ce l'hai, Band logora chi non ce l'ha, eccetera, eccetera, poi è finita così, ma di fatto, è un esempio, per chi l'ha vissuto, è una lezione importante, per chi non ha fatto take profit, soprattutto, perché uno può anche viverlo, e fare take profit, oppure essere furbo, no? E, pertanto, è una lezione, che tutto ciò che estende, poi, va a droppare, a calare, anche se è un buon progetto, perché Band, è un buon progetto, assolutamente, rimanendo invece sul presente, qua abbiamo questo pool di offerta, che ostacola, al momento siamo in zona di range, vicino ai minimi, e non c'è veramente nulla di interessante, alla luce del sole, zero proprio, perché, finché non andiamo a recuperare quell'area lì, no, non ci siamo, allora, 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 cosa ne pensi di VET, sia nei fondamentali, che nel grafico, l'abbiamo già analizzato, fondamentali, assolutamente positivi, Mitico Luke, grazie per tutto ciò che fai per noi, cosa pensi che possa succedere alle altcoin, quando arriverà l'aggiornamento di Ether, soprattutto quelle basate su blockchain parallele, tipo BNB, guarda, io penso che la speculazione, magari, porterà un attimino, le porterà ad ampare, non lo so, però, io credo che non moriranno, cioè, perché, non esiste, secondo me, quella blockchain, che prende tutto, e le altre spariscono, non funziona così il mondo delle cripto, il mondo delle cripto funziona, perché è diversificato, c'è spazio per tutti, quindi, se ogni blockchain, così come ogni canale YouTube, così come ogni community, si porta avanti il suo lavoro fatto bene, si porta avanti i suoi progetti, e si porta avanti appunto la sua community di sviluppatori, di creatori di cose, e di utilizzatori, andrà avanti, non è che vanno tutti su Ethereum 2.0, abbandonano l'ABSC, abbandonano Solana, abbandonano Cardano, abbandonano qualsiasi cosa, no, le blockchain vengono abbandonate, se non hanno valore, se hanno valore, non esiste il killer, e le altre che non esistono, è così, c'è un po' di diversificazione, ed è bene, cosa ne pensi di VET, BAND e ICON? Allora, VET e BAND, dal punto di vista fondamentale, te l'ho detto, li trovo, BAND ha un oracolo, il mondo degli oracoli, ha grosso spazio di adozione, di crescita, anche se soffre un po' la competizione con Chainlink, che è, c'è poco da fare, è superiore, non si può negare, il fatto che Chainlink, è l'oracolo con la O maiuscola, è superiore, mentre VET è assolutamente interessante, nel mondo della supply chain, identità digitale, varie altre cose, mentre ICON purtroppo non lo conosco, cioè non lo conosco, ce l'ho presente, era una platform in sostanza, però non l'ho più seguita, ammetto di non averla più seguita, puoi dare uno sguardo a RIF? Assolutamente sì, allora, ce l'ho ancora qua, oh yes, eccolo, allora, allora, RIF, scenario di range, che continua, continua imperterrito, allora, abbiamo un trend principale, che escludendo le prime due candele, che non fanno testo, queste non esistono, è positivo, ok, higher high, higher low, e così via, fino ad arrivare a questo top locale, e lateralità, lateralità con qualche falso movimento, tac, 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 e quindi niente, range, al momento abbiamo fatto il nostro rimbalzino sul range low, quindi, vi dico la verità, su ipotesi di accumulazione, su ipotesi di permanenza della struttura, comunque bullish, questo non è un brutto punto dove andare ad accumulare, sapete, perché, andando a posizionare sapientemente lo stop loss, il che non vuol dire metterlo qui appiccicato, o qui, vuol dire magari metterlo un po' più lontano, e magari considerare la chiusura della candela, anziché rischiare di farsi prendere da un fake down, da un falso breakdown, però, ripeto, potrebbe essere interessante, visto che ci troviamo in una fase di range, molto meglio sarebbe se ci fosse un altro falso movimento, perché è il tipico setup da range, no? Tipo questo, abbiamo il dump, e la chiusura qua sopra, falso, cioè il fail swing, falso breakdown, chiamiamolo come vogliamo, però, ripeto, c'è questa possibilità, sarebbe interessante, vedere come va a finire, ce lo potremmo segnare così giusto per sfizio, da aggiornarci poi nei prossimi giorni, dunque, 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 ciao Luke, complimenti come sempre, ma grazie, domanda del giorno, ho degli Ether inutilizzati, pensavo alla LP su Binance, Beth Ether, ma non mi convince troppo, ho già degli Ether in staking in DeFi, e vorrei diversificare, grazie come sempre, allora, 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 dunque, non mi ricordo più quanto rende adesso su Venus e su Autofarm, Autofarm, Ether, perché mi ricordo che al tempo era molto gustoso, Ether, 19,6, sì, sì, è qui, quindi, 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 è ancora niente male, poi, su Pancake Swap, c'era anche lì, Beth Ether, fammi vedere se c'è ancora, Ether Beth LP, 19,1%, vabbè, forse è meglio quello su Venus, allora, e, WBNB Ether, 38,8, però, c'è anche dentro BNB, quindi, se ti interessa BNB, altrimenti, fammi pensare, Ether, dunque, su DeFi, però tu avevi detto di escluderla, la DeFi, eh, però, se escludi la DeFi, il rendimento Cefai è sempre 5, 6%, quello un po' sostenuto da Ethereum 2.0, quindi, di fatto, tornata la stagione degli insetti, di fatto, siamo sempre lì, io ti dico, su Ether, al momento, le occasioni migliori, mi sa che sono, sulla DeFi, stavo pensando se mi veniva in mente qualcos'altro, ma, mi sembra di no, se qualcuno di voi ha qualche altra idea, qualche altra, cioè, conosce qualche altro modo di mettere a rendita interessante Ether, condividete, dunque, 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 Luca, ci puoi rinfrescare il ruolo del market cap, nella scoperta di gemme altcoin, e, dunque, dunque, che dire, attenzione al discorso delle gemme altcoin, perché la market cap, non è l'unico parametro, cioè, uno può dire, sì, se la market cap è più bassa, c'è più spazio per salire, però, deve esserci anche un motivo, che le spinga a salire, ok, pull sushi Ether, su Binance Smart Chain, qualcuno dice, sì, però c'è sushi, qualcun altro, rincara la dose, rendite interessanti di Ether, su DeFi a rischio contenuto, e, io, autofarm, mi sembra interessante, anche io, ho problemi da giorni su Binance, a depositare Beth Ether in Liquid Swap, perché forse è saturo, non saprei, non saprei, aspetta, andiamoci a vedere un attimo insieme, dai, su Liquid Swap, non ci dovrebbe essere, tra l'altro, Impermanent Loss, no, Finanza, Binance Earn, ta 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 ta, Liquid Swap, visualizza altro, vediamo un po' cosa ci abbiamo, Bus, 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 dai, Beth Ether, 13% più 7, ah, ah, non male, non male, ah, Ed Liquidity is unavailable, è saturo, è saturo, completamente saturo, l'avranno, avrà messo un hard cap, mi sa che l'hanno hard cappato, al momento, eh, tocca aspettare, c'è niente da fare, tocca aspettare, anche perché, se no, hai voglia, se, cioè, è un rendimento interessante, me l'aspettavo più basso, ma forse è proprio l'hard cap che va a limitare l'offerta, la domanda è alta, e quindi, quello è ciò che succede, tra l'altro, che, che impatto ha avuto, sul, sulla coppia, Beth Ether, tutta questa liquidità, ah, 0,95, mi aspettavo che l'avesse più riavvicinata a uno, sarebbe da studiare, sapete, questo grafico qua, di Beth Ether, andare a capire, se ci sono delle opportunità di arbitraggio, delle cose, vabbè, sto pensando a voce alta, andiamo avanti, andiamo avanti, che è meglio, ciao Luke, domanda di rito, tutto bene, sì, grazie, tutto bene, oltre a questo, vorrei chiederti, secondo te, ha senso usufruire di DeFi e CeFi, anche con piccoli capitali, per diversificare il portafogli, nell'ordine delle centinaia di euro, oppure è meglio farlo con capitali più alti, già nell'ordine delle migliaia, guarda, la risposta sta nella domanda, cioè, il discorso è, tu con piccoli capitali, avrai piccoli rendimenti, i rischi sono sempre quelli, quindi tu domandati se ne vale la pena, ok, non lo so, sicuramente per andare su 100 euro, a fare 5-10 euro l'anno, che è il 10% di APY, e allora depositarli su una piattaforma terza, pagare le fee, non lo so, forse non conviene, ecco, forse conviene, non lo so, dipende tutto dall'obiettivo, perché se poi tu hai l'obiettivo di andarli a aumentare nel tempo, già le cose cambiano, se hai l'obiettivo invece di cercare di, di ottenere un effetto leva tra il rischio contenuto e il rendimento massimo, allora non è certo la strada giusta, buonasera Luca, potrei avere una tua opinione su BNB? Grazie, guarda, la mia opinione su BNB, adesso guardiamo anche il grafico, ma dal punto di vista fondamentale, la definisco quasi un must have, dal punto di vista grafico, è sempre intrappolata in questo strabenedetto range, va a pescare sempre un po' di liquidità, da questa area, e ripeto anche qui, come abbiamo detto poco fa con l'altra coin, con RIF, c'è il discorso di potenziale accumulazione preventiva, con stop loss qua giù, in caso di chiusura appunto da queste parti, basta tutto lì, il resto, se no aspettare il breakout, perché se poi andiamo a perdere il range, andiamo a scendere, non è benissimo, perché il prossimo atterraggio vedete bene che è più giù, se andiamo invece a rialzo, molto meglio, perché di fatto è un uptrend che continua, e che è uptrend, ciao Luca mi spieghi come fare per fare la sub con Amazon, e allora con Amazon Prime, potete abbonarvi gratuitamente al mio canale qua su Twitch, dovete collegare da Amazon, c'è la voce Amazon Gaming, mi pare che si chiami, e c'è semplicemente da andare a fare il login su Twitch da lì, e poi automaticamente quando ti loghi su Twitch, ti vede con profilo Prime, e c'è il simbolino di fianco, quel simbolino a forma di corona, vedete che ad esempio qua sotto c'è qualcuno che ce l'ha, Prime Gaming, e basta, e poi potete fare il sub, e vi ringrazio veramente un sacco, un sacchissimo anzi, e dunque, 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 tra l'altro anche non si vedono neanche i, vabbè, oggi i plugin funzionano un po' si e un po' no, vabbè, 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 allora, dove siamo arrivati? Puoi vedere LinkUSDT, mi sembra di vedere un triangolo discendente, ma non capisco se questo rappresenta un possibile trend ribassista, o se bucata la linea superiore potrebbe segnare un trend rialzista, e andiamoci a vedere insieme, dai, LinkUSDT, allora, 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 vediamo un po', e guarda, non hai tutti i torti, eh, sul discorso del triangolo, perché effettivamente, proviamo a vedere il settimanale, allora, eh, il settimanale potrebbe essere ancora più curioso, perché potrebbe essere invece un triangolo simmetrico a diritto, giusto per confonderci un po' le idee, eh, tac, così, quindi, settimanale, possibile triangolo simmetrico, guarda, tra l'altro, il fatto che la domanda reagisce a ogni tentativo di violazione, questo è un segnale forte della domanda, e questo mi fa propendere più per un bias rialzista, poi, se andiamo sul daily, vediamo che accade, sul daily, di fatto, abbiamo il top, un lower high, questo low, un equal low, che però è più alto del precedente, e adesso dobbiamo andare a cercare il prossimo high, quindi, per ora hai ragione, c'è questa possibilità, però è ancora da verificare, nel senso che dobbiamo andare a trovare il nostro, il nostro high al momento, cioè, se troviamo un lower high, e poi c'è segno di offerta che ci fa dampare, allora diventa più probabile uno scenario del genere, ma, se andiamo a spingere, facciamo un bel higher high, invece andiamo a ribaltare completamente il tutto, mentre sul settimanale, c'è addirittura lo scenario di possibile accumulazione, quindi, apre le porte anche al long preventivo, volendo, tac e tac, bene, 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 allora, per le ultime domande, prima di, no, ciao, ultime domande, siamo a 53 minuti, tocca andare a vedere i grafici, poi le facciamo, le vediamo dopo le ultime domande, quindi, mettetevi un attimino in pausa con le domande, e andiamo a vedere i grafici, e poi, torno da voi, partiamo con bitcoin, allora, bitcoin, anche il settimanale sarebbe interessante analizzarlo ogni tanto, però adesso è venerdì, quindi aspettiamo lunedì, lunedì analizziamo, ricordatemelo, me lo promettete che me lo ricordate di analizzare il settimanale, se no io mi dimentico, quindi, adesso, bene, impazzisce, andiamo a rivedere bene il daily, che ci sta un po' delineando uno scenario chiaro, lasciatemelo dire, abbiamo un, vabbè, l'uptrend, il macro in uptrend, quindi per il momento, è abbastanza evidente, come il macro, voglia andare a fare degli higher lows, ok, quindi, la prima cosa che deve rimanere, è quella, cioè, se mi va a piazzare adesso un lower low, o anche un equal low, un equal low è ancora salvabile, volendo, un lower low, inizia a diventare un po' bruttino, quindi, bisogna fare, un benedetto higher low, dal punto di vista macro, per fare un higher low, dobbiamo atterrare, da queste parti, io mi aspetto, questo è l'ultimo, l'ultima area utile, più o meno, per fare un higher low, 49.500 dintorni, perché, se ci fate caso, qua abbiamo un cluster, abbiamo un po' di, un po' di liquidità, che si è mossa, e, vabbè, anche qua sotto, in realtà, e poi, vedendo soprattutto, il volume profile, notiamo come, questa qui, sia un'area, ad elevati volumi, quindi, che dire, qual è l'area, in cui dovremmo fare, un higher low, uno, qua, se lo facciamo già adesso, è tutto da vedere, due, da queste parti, ok, se andiamo a perdere, queste due aree, diventa più problematico, perché, andiamo a intaccare, di più il macro trend, per il momento, il macro trend, è estremamente bullish, il micro, cioè il brevissimo, invece, è ribassista, perché, abbiamo invece, un regime, di lower lows, e lower highs, ok, quindi, ci stiamo muovendo, in questa direzione, per andare, a ribaltare, la situazione, occorre, andare, a far vedere, che c'è della domanda, che si mangia l'offerta, e quindi, si fa vedere, sul grafico, in questo modo, che cosa vuol dire, al momento, guardando il brevissimo, il macro, lo abbiamo visto, abbiamo detto, c'è il 52k, e c'è il 49.3k, sono le due aree, più importanti, e poi, vabbè, qua a scendere, c'è la zona di liquidità, l'ultima area, per fare un higher low, altrimenti, finiamo in equal low, o peggio in lower low, però, andando a vedere, le cose più da vicino, noi notiamo, che, abbiamo, questa prima area, questo primo cluster, 57.6, che è stato, il mio primo trigger short, se vi ricordate, poi, l'origine del breakdown, da quel cluster lì, era 59k, che per me, era il trigger, se andavamo a chiudere, qua sopra, avrei chiuso, la posizione short, se vi ricordate, ve lo dicevo anche, tutte le ultime volte, poi, abbiamo fatto, il retest, e, il lower low, ok, questo è stato, un primo lower low, confermato in seguito, quindi, questa è una sorta, di low unico, lasciatemi dire, nel frattempo, però, abbiamo formato, un altro cluster, qua giù, un cluster, intorno ai 54.2, 54.200, quindi, questo cluster, assume un ruolo, comunque, adesso, di resistenza, perché, abbiamo fatto il cluster, il giorno dopo, Musk, vi ricordate, che ha fatto, la notizia, di Tesla, c'è stato il pump, assorbito, atrocemente, questo pump, quindi, questo è uno dei pump, più bearish, che abbia mai visto, nell'ultimo periodo, perché, è stato, totalmente sbranato, da chi ha aperto, posizioni short, abbiamo fatto, un lower low, ci siamo appoggiati, sui 52k, la candela dopo, ha provato, a dampare ulteriormente, la domanda, non gliel'ha permesso, e meno male, oserei dire, perché, se dampavamo ulteriormente, questo era un altro, un altro punto di test, nel senso che, questo è un supporto importante, lo vediamo, in una situazione, così ribassista, organica, perché, come vedete, questo è un canale organico, di ribasso, non è un dump, ok, è un ritracciamento, positivo, se, invece, qua, con la confluenza, tra la zona di supporto, il low del canale, avessimo dampato, in questa maniera, capite bene, che accelerava, il downtrend, quindi, diventava, una situazione, ancora maggior squilibrio, a favore dell'offerta, la cosa, invece, sulla quale, dobbiamo puntare, adesso, è il fatto che, in questo ritracciamento, si c'è comunque, l'offerta che sta vincendo, però, ripeto, è un ribasso, comunque organico, più tranquillo, fin tanto che è così, di solito, si risolve, in un punto, che, o termina, il downtrend, e andiamo a lateralizzare, e poi, ovviamente, la lateralità, definirà la fase successiva, oppure, andiamo ad accelerare, a ribasso, e ovviamente, parte il dump, e cambia lo scenario, oppure, si palesa domanda, arriviamo a un punto, di prezzo, sufficientemente basso, per ingolosire la domanda, che entra in gioco, compra, e inizia a fare, dei costrutti, di bottom potenziali, che possono essere, degli higher high, dei low reclaim, degli engulfing bullish, cose di questo tipo, per il momento, non c'è traccia, di nulla di ciò, il primo, sarebbe, molto debole, il reclaim, di questo cluster, molto debole, perché è un cluster, che comunque, appena fatto, non è mai stato testato, confermato, ha solo una conferma, della candela, del giorno successivo, poi, la seconda cosa, sarebbe il low reclaim, ai 55.500, qua su, e, questo sarebbe già, un po' più, forte, perché comunque, andrebbe a riprendersi, questo livello, ma ancora non sufficiente, perché la conferma finale, me la darebbe, la ricerca, poi, del low, dopo aver ripreso, il, aver fatto il reclaim, dei livelli, se lo fa benissimo, poi deve andare a cercare, il low, se va a trovarmi, un higher low, allora, ecco che ci siamo, che abbiamo invertito, la struttura, magari nel frattempo, si forma un altro cluster, di mezzo, che ci può fare, da supporto, e si formano altre, strutture, su cui andare ad aprire, dei long, quindi, la domanda, che avete fatto prima, che è proprio, dove vado ad aprire, il long, questa dovrebbe essere, più o meno, la risposta, devo andare a cercare, una situazione, di questo tipo, ecco, e poi, c'è ovviamente, anche il break, ascendente, dal canale, mentre, se continuiamo, di questo passo, ve l'ho detto, storniamo, io vado a ricaricare, lo short qua, vado a mettere, dal 5 al 10%, della mia posizione, comunque ancora piccolo, come potete vedere, nel frattempo, il mio 5%, ha fatto un po' di profitto, quindi, vado, insomma, vado a distribuirlo, poi, con i ribilanciamenti, ci sono tutte le mie pippe mentali, e, e che altro vi volevo dire, niente, basta, questa è un po' la situazione su bitcoin, è abbastanza semplice, ve l'ho detto, poi, per quanto riguarda, Ether, invece, abbiamo, cosa abbiamo, Ether è sempre lì, che non combina niente, ecco, ieri abbiamo, l'altro ieri, in verità, abbiamo avuto il primo segno di domanda, cioè, ha provato a attaccare, ha fatto lo sweep, di questi low, vedete, l'ha sweepati di brutto, e poi, però, la domanda è intervenuta, ha assorbito, e ha fatto follow up, però, senza nessun altro tipo di segno, vedete che oggi, è un insulsa, una cosa insulsa, la candela, invece, veniamo al dunque, allora, andiamo a vedere le altcoin, che vi ho promesso, perché, in realtà, vabbè, la dominance, ancora, non, beh, in downtrend, le medie mobili, sono in downtrend, però, è ancora un po' in questa fase laterale, però, attenzione, perché, se andiamo a rompere, a ribasso i 60, alt season, boom, via, pronti all'alt season, mentre, andando a vedere le singole alt, partiamo da Cardano, che è ben messa, per quale motivo? Vi ricordate cosa abbiamo detto, le ultime volte? Avevamo detto, abbiamo fatto il low, questo era il top, dovuto al listing su Coinbase, la FOMO, eccetera, eccetera, poi abbiamo ricominciato, a droppare un po' piano piano, poi la domanda, guardate, tra ieri e oggi, è tornata in gioco, è tornata in auge, e al momento, sta affrontando, 2340 sat, questa zona di resistenza, e quindi, se la andiamo a bucare, mi duele dirlo, ma c'è un setup long, perché, questa zona diventa un supporto, dobbiamo prendere la liquidità, qua su, 2520, andarla a prendere, e poi chiudere, comunque qua sopra, altrimenti, non è valido il break, in quel caso lì, diventa, diventa un entry area, perché, di fatto, abbiamo fatto, un low, un higher low, un equal high, e un break, quindi una sorta di, cap and handle, si chiama, giù di lì, però, ripeto, è un setup long, poi, alfa, alfa, aveva fatto, un falso break, qua, per oggi, vedete che, la domanda torna, la domanda c'è, e quindi, rimane, il solito setup, ovvero, noi abbiamo, il nostro range, in un macro rialzista, il top, si trova in zona, 4200, al momento, se lo andiamo a rompere, e a chiudere, qua su, allora, di nuovo, si apre, la possibilità, di long, poi, che altro abbiamo, vedere il taccuino, cardano, alfa, egl, l'abbiamo già visto, axi, va beh, axi, anche lui, ha spinto, perché è arrivato, a ritestare, a ripescare liquidità, da questo cluster, adesso, la domanda, in calza, e quindi, se, non si rivela, un falso movimento, cosa che non credo, ma perché, mi pare, che abbiano rivelato, oggi annunciato, la versione 2, delle battaglie, in, in axi infinity, ci devo guardare, ci devo guardare, perché, tra l'altro, a me, ha sempre gasato, sto giochino qua, vi ricordate, che ve l'avevo mostrato, all'inizio, che, mi gasava, assai, e quindi, potrebbe essere, dunque, questo riquadrino verde, è sulle 4 ore, è sulle 4 ore, ma, vabbè, ormai, secondo me, è un po' obsoleto, o no, era il pool di domanda, che avevamo inquadrato, tempo addietro, tempo addietro, e potrebbe, potremmo alzarlo, un po' fin qua, guardate, fino a qua, sto contestualizzando, sulla, sulla situazione attuale, e potrebbe, farci da entry, dico potrebbe, per un trade, ovviamente aggressivo, però, vabbè, basta, sia un grafico esteso, ma, comunque, ha ritracciato, c'è domanda, può essere interessante, uno spunto interessante, da seguire, altre altcoin, invece, vabbè, sono tutte abbastanza verdi, tranne Teta, che oggi ha deciso di andare a correggere, però, non c'è nient'altro di particolare, direi, da aggiungere, quindi, 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 nel frattempo, 1 ore 05, anche CRO, dunque, 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 CRO, mi chiedete di CRO, vediamolo, 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 CRO, vabbè, CRO USDT, io sto guardando ultimamente, che non è malmessa, perché, sta facendo una sorta di triangolo ascendente, e quindi, non lo so, è anche lì, accumulazione, fino a prova contraria, tra l'altro è stato listato su FTX, CRO, per gli aspiranti speculatori, su FTX, c'è CRO, e questa è una bella notizia, anche per chi, cioè, è una follia, perché è il perpetual, quindi, no, perché io pensavo, nella mia testa, andare a mettere in staking, i CRO, e shortare il perpetual, però, c'è da considerare il funding, e tutti quegli altri discorsi vari, quindi, bisogna, bisogna un po' elaborarla, come cosa, ecco, non è così immediata, è semplice, però, CRO è ben messo, il grafico è ben messo, triangolo ascendente, pare, vediamo un po' come si sviluppa, amici, bene, questo è quanto, 1 ora e 06 è sufficiente, direi vi ho asciugato abbastanza, io vi ringrazio ancora, per avermi seguito, non so se passava anche oggi, la scillata, sì, Celsius Network, ha aumentato il bonus, per i nuovi iscritti, che per ora, è l'unico, che non ha abbassato, i tassi di interesse, sui depositi, e ha alzato, il bonus, per i nuovi iscritti, a 30 dollari, per chi, appunto, crea un account, con un referral link, c'è il mio, che ogni tanto passa, e deposita 200 dollari, e li holda, per un mese, ci sono 30 dollari, in bitcoin, di bonus, e inoltre, c'è un codice, che mi pare, sia new 40, sempre per i primi depositi, che potete utilizzare, combinandolo, con il referral, la patto, che appunto, sia il primo deposito, e vi dà un altro bonus, di 40 dollari, ok, vedete, quando voi, cliccate sul referral link, scaricate l'app, comunque vi dice anche, di usare il promo code, new 40, sono combinabili, bene, 70 dollari, su 200, cos'è quasi, un 40% di bonus, not bad, va bene, basta, non vi scillo più niente, vi saluto, vi ringrazio, per avermi seguito, e noi, ci vediamo, lunedì, come sempre, vediamo un po' cosa combina bitcoin, cosa succede in questo weekend, ultimamente i weekend, sono decisamente folli, rimaniamo sempre sul pezzo, vi auguro un buon weekend, e preparatevi a un'altra settimana, carica a molla, di contenuti, come sempre, alla prossima, e di nuovo, buon weekend, e di nuovo, vi auguro un po'